Con l'ammodernamento della stazione ferroviaria della città di Agropoli, grazie ad un finanziamento di Trenitalia, SPA, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, sono stati ampliati i servizi presso lo scalo agropolese, come i tornelli, sono stati rifatti i marciapiedi della banchina del secondo e terzo binario e i binari inutilizzati sono stati rimossi. Sono state realizzate nuove sale d'attesa da cui si può accedere solo dall'esterno e non più dall'interno ed è stata realizzata anche un ascensore per disabili, quest'ultima però fino a qualche giorno fa non era attiva. Fortunatamente il servizio è stato attivato e finalmente gli utenti potranno suffruire dell'importante servizio. Con grande soddisfazione e con un pizzico di orgoglio, scrive il consigliere comunale di opposizione Luigi Maurano del comune di Castellabate, ho appreso la notizia dell'attivazione degli ascensori della stazione di Agropoli Castellabate. Mi sento di esprimere un sincero ringraziamento a rete ferrovie italiane per la sensibilità dimostrata a seguito della richiesta che ho inviato il 24 gennaio scorso. Da oggi per i disabili, per gli anziani e per tutti coloro che trasportano un bagaglio pesante, la stazione di Agropoli Castellabate sarà maggiormente fruibile.